Ciao a tutti, io sono Gian e lui è Daniele che guida, però adesso lo puoi parlare perché sta guidando, è super concentrato a guidare e stiamo andando verso Milano perché faremo un vlog a Milano Eh sì, e ciao ragazzi! Eh sì, e rifarlo che non hanno visto eh! E ciao ragazzi! Ciao, guardate dal panorama di corso che oggi purtroppo non è bellissimo il tempo Speriamo che non piova Beh, ci vediamo a Milano Sono qui a fare di guardia Siamo arrivati a Milano ragazzi Sono qui a fare di guardia alla macchina di Dani perché vedete là in fondo, non so se vi riuscite a vederlo Guarda quello gomino là Che sta andando a pagare perché è un postage a pagamento Io spero tanto che non piova Se no il vlog salta tutto Siamo a Milano e tra poco andiamo su una video Devo fare la guardia Ecco Dani è tornato, ha pagato, siamo tornati È bellissimo, è un bosco del respiro È un bosco del respiro Finalmente non parliamo più di Roma, parliamo di Milano Milano, Milano, Milano Il Gianduiano, quello è Torino La centromana c'è sempre Beh, però sì siamo in giro È il secondo vlog che facciamo in giro dopo Corsico Milano Ci vediamo alla video Allora adesso noi attraverseremo tutto il parco E arriveremo alla video Oggi vi accompagneremo con noi in strada di Milano Ma incontriamo qualche VIP oggi Magari ci sono i me contro te Eh sì, perché i me contro te vivono qui Qualcuno incontriamo, Maurizio No, Maurizio no Non è che magari ci fermano e dicono È il tuo pazzo È una fiction Una fiction Una fiction a Corsico non sarà mai vista A Milano non sarà mai vista Sapore di Milano Potrebbero fare Sapore di Milano Sapore di Milano Oggi vi accompagneremo con noi fino alla Darsena Speriamo che non piove Eh sì, perché il cielo non promette niente Spero è buono Non mi mette, non mi mette, non mi mette Mi dissuto Comunque andiamo fino alla Darsena La conoscerete? No, tutti pochi la Darsena Darsena di Milano Famosissima Riprendi dopo, qua non c'è niente Eh ma qua c'è il parco Il bello è che noi facevamo la roca a Milano Ma non andiamo al Duomo Però in altronde è lunga È lunga la camminata fino al Duomo Quindi vabbè Guarderemo un po' così Ci vediamo dopo Siamo arrivati sul Naviglio Guardate qua Il Naviglio di Trastevere Basta, il Naviglio di Milano Guardate l'acqua pulitissima Mi faccio cadere il cellulare No, eh Non facciamo più video Non facciamo fare niente Guardate che bello Ah, peccato che sia brutto Se c'era sola era ancora più bella Milano Adesso noi dovremmo fare tutta quella camminata Per arrivare fino là Insomma camminerò un bel po' Arriverò fino alla Darsena Allo scalo di Porta Genova Andiamo Ammirate C'è molta gente Dovremmo mettere la mascherina secondo te Dani? Ma ti chiedi sui gradini Sono allo scalo di Porta Genova Che sapevo che lo diceva Sapevo che faceva qualcosa Qualche battuta su questa cosa Dallo scalo Ma secondo te Dani? Dobbiamo metterci la mascherina A giocare giù? Ma no ma che mascherina Se tu ti senti? Vabbè Ormai non c'è più il Ponte Ma ci sono dei pesci Ma ci sono eh Ma Poi se lo mangi Cosa? Che deve? Niente 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 Magari venga a fare un giro Comunque stavo dicendo Che questo video andrà a finire Nella playlist in giro con noi Che non la utilizziamo da un sacco di tempo Questo è il secondo video E poi andranno anche tutti i video in vacanza Naturalmente Perché noi in vacanza Andremo in Trentino Anzi no Alto Adige Andiamo in Alto Adige Vero? Sì I panorani sono un po' più belli E poi andiamo in Veneto a Gardaland I panorani sono decisamente belli Quindi insomma scoprirete tutto Sì però Gardaland non va a riprendere Perché? Perché Non va bene Invece sì Facciamo il vino anche lì Ma non c'è niente Ma come non facciamo niente? Sono le giostre Che riprendi le giostre? No Riprenderemo mentre saremo dentro la giostra Hai capito? Guarda le montagne I laghi Sì ma anche quello insomma Insomma scoprirete tutto il mondo Con il tuo pazzo E' rotondo E' rotondo Tutto il mondo E' rotondo E scoprirete tutti con noi Prima o poi faremo una canzone Sì Già ho qualcosa in mente Ma se ci abbiamo soltanto 30 iscritti Fare la canzone non è possibile Sì però non fare troppo di scemi Siamo a Milano E se ci becchiamo la pioggia? Che fail Sì speriamo di no Non credo Ci sta bene per oggi 27 gradi Questo è il secondo posto che scoprono con noi Prima Corsico Poi Milano E il prossimo quale sarà? Non so Eh? Quale sarà il prossimo? Eh? Quale sarà il prossimo? Dopo Corsico Milano Oggi Il prossimo posto che scopriranno Quale sarà? Ehm Brunico? Brunico O Brunico Brunico si dice Che è in alto adice O Brunico Ancora Brunico che è in alto adice Che vuol dire Brunico? Che vuol dire Brunico È una città Un nome di una città Guardate che bello Ragazzi Beh È pieno di gire Dovendo girato Andare un po' Un piano? Un passo dal cielo Sì No Non Sto in cani No Qui Qui Ci sono alcune scene Veramente qua c'è stata una sparatoria C'è Teresil che nuota nel navio Perché c'è il territorio con uno scogliatto Non ci sono manco boschi qui Quindi Non so se Ma hanno mai fatto qualcosa qua a Milano Un film Ah no I film sì Da pozzetto Sì sì Però i telefilm Fiction Fiction Qualsia anche No fiction Quale Qua hanno fatto anche il video delle vibrazioni Oh guarda C'è una cosa interattiva Che compare da lì Ah sì Un giornale Supergulp C'è Batman C'è Batman Veni a vedere Ma è il Batman C'è Eh cos'è questo Non è il Batman È Marizio Marizio e Betrina Che va così Sono io Questo è il ponte Veramente Milano rispetto a Corsico È gigante Perché c'è tutto di più C'è la parte sud È bello girare qua È certo C'è la parte sud C'è la parte nord C'è la parte ovest C'è la parte est C'è la parte barrioli C'è la parte gli scherzi Ma non è che devi riprendere Non mi piace cammina Guardate noi siamo qui Adesso non moltiamo ed arriviamo là Che ne dici Adesso siamo andati dal lato sinistro Magari al ritorno Ma magari non andiamo andando a destra Che ci sono A ritorno Ci sono più cose da vedere Beh no Uguale Ci sono più cose secondo me Secondo me ci sono più cose C'è anche le bancarelle O no Non credi Ci vediamo a lodarsene Per stoppare in quanto Questo bellissimo Gelato Cioccolato Dolce un po' cioccolato Tu Gelato cioccolato Eh no Però questa era di pompo Non era mia E questa è dedicata a te Alla buon lucente armonia Deglienza mente Giulia Siamo tornati a Corsico No scherzo Siamo in via Corsico Guarda via Corsico E' vero Dai Andiamo avanti C'è lo sprizzo Mi copri lo sprizzo Sprizzo E' lo sprizzo 12 anni E' lo sprizzo Adesso là si sale E si arriva alla Darsena Ci sono in maria di ristoranti Bellissima a Milano Sono curioso di vivere qui E' certo che sta riprendendo Ti volevo dire Non stiamo esagerando A troppi là Che puoi tornare È lunga Ma no Camminiamo un pochino Ci dobbiamo abituare Per la montagna Perché poi lì puoi camminare L'importante è il tempo Non è Cioè L'importante è il tempo Cioè ieri che era bellissimo Lui stupidi Devo stare a casa Fare e innaffiare le piante Ma almeno non si respira Perché anche se no C'è a quest'ora del pomeriggio Eh vabbè Ma sono le tre e mezza E dovrebbe essere caldo E fammi vedere Perché sono curioso Eh sì Cos'è Ah un laghetto Io non l'avevo mai visto questo Ho girato No qua non ho girato La scena quando A tre io Va dentro L'alberino Ma qui Eh Qui dove Dove la bella lavanderina Lava i panni I piatti I piatti I panni Che bello Milano l'incanto No come Roma No scassi Perché Roma è bella Roma è anche più bella Roma è anche più bella Capitavo Eh Così Qui Paipogna Là ci sono tutti i monumenti Qua c'è Duomo Beh Duomo è importante Là c'è di tutto Colosseo La piazza Navona La piazza di Spagna La piazza di Spagna Eh sì C'è andati posta a vedere Erpante Erpante I fori imperiali Ma perché poi ogni anno Quando andiamo in vacanza Andiamo in posti nuovi Quindi insomma In giro con noi E in giro con noi Vabbè Ci vediamo ad Arsena È la terza volta che lo dico Ma poi sblocco sempre Qua una figlia Buonasera Questo ristorante Ci abbiamo le pizze Eh Ci abbiamo le pocacce Eh Sono uguale Eh è uguale La d'Arsena Ecco la d'Arsena Dio Milano È più bene di così Guardate Guardate Sì È bellissima Io trovo che Milano Sia veramente bella Peccato che Non vi facevo vedere Il Duomo Quelle cose più Però È un bel pezzo a piedi E costo tempo Non mi fido È vero Comunque ragazzi Iscrivete nei commenti Se volete magari Un altro giorno Che veniamo qua a Milano Che inquadriamo il Duomo Con San Lorenzo Magari in una giornata Un pochino più bella Perché oggi fa schifo Guarda là È l'arco di Triunfo È l'arco di Triunfo L'arco di Triunfo È un piccolo arco di Triunfo Quando arrivi là Se uno corre per 100 km Per l'arco È l'arco di Triunfo Ma comunque trovo veramente Che Milano sia stupenda Tu che ne dici? Dei fare una cazzata Ma come fare una cazzata? Ho capito che sono romanaccio Però anche Milano Se ti piace Vedi che fa le forze Ciao Andiamo fino a là? Sì adesso traversiamo Vabbè andiamo Ecco qui l'arco di Triunfo Ecco l'arco di Triunfo De Milano Qua finisce la tercine? Oppure comincia A seconda dei punti di vista Perché se arrivi là di là Comincia Se arrivi là di là Finisce Se invece arrivi là di là Comincia Se arrivi là di là Comincia Oppure se arrivi Ho capito Se tu adesso Voi sempre dritto Arrivi alle colonne E se vai ancora più dritto Andiamo al Duomo Ma questo tempo Io non mi fido tanto De camminare No La prossima volta La prossima volta La prossima volta Che faremo A settembre magari Sì Non so Tanto in giro con noi È una rubrica Che non chiuderemo mai Stavolizia Che ce l'ho prestata Mi dobbiamo arrestare Mi dobbiamo arrestare Perché non si può riprendere a Milano In una zona pubblica Questo è un ristorante Dove sono andato a mangiare Con i miei nomi Ma che mercato Guarda Supermercato Dov'è che c'è scurdo Non vedi dentro Ci sta la frutta Il panificio Non lo so Io ho mangiato dall'altra parte Ho mangiato pure bene Allora ci sarà un po' Guarda tutti i tavoli verdi Vuol dire che qua costa caro No sì Ora faccio una battuta Significa che qua Bisogna avere il green pass Eh sì Bella Bellissima Una battuta Ogni tanto La posso fare L'unico posto dove si deve seguire Il green pass all'aperto Perché sta tutto verde È tutto verde Vabbè A me una battuta Ogni tanto Me la fai fare Vabbè Vabbè Un delfino Quale cosa Ma dov'è il delfino Alla darsena Il delfino Alla darsena Ma questo è un market È vero Allora io ho mangiato dall'avanti Forse C'è un po' di tutto Certo che è bello Che è certo che è bello Mangiare qua ai piedi Della darsena Ai piedi Mannone Ma non si mangia a formare Perché di là È Perché l'era Dai Non voglio entendere Vabbè Lasciamo perdere Sanna Ma te Sanna Sanna è più da l'altro Le ha una troccole Le ha una tre Guardate È bella la darsena In zona pubblica Che è? Il tesi tuoi Eh Poi siamo proprio Alla darsena Vabbè Vedi Io ho mangiato qua Adesso mi tuffo Addio Scià Se ho qualcuno qua Se vuole suscitare Poi Vabbè ragazzi Siamo già a 13 minuti De video Torniamo Oppure finiamo qua il video Salutiamo qua O salutiamo Aspetta Salutare Salutiamo quando arriviamo Alla macchina Va bene Ciao 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 Siamo tornati sul Naviglio Stiamo andando verso la macchina e c'è questa mamma da milano la bellissima e ridente di cittadina allora ci vediamo in macchina ecco le bancarelle le bancarelle a noi prima o daniele prima eravamo sull'altro lato noi prima eravamo la cassetta prima eravamo al lato adesso sono al lato b e stiamo tornando alla macchina si ma cacolo poi mi ha camminato tanto oggi quindi il nostro prima c'era batman e adesso già spiderman il negozio è un antiquariato vedi per esempio beh a parte gli scherzi siamo arrivati alla nostra auto adesso ce ne andiamo a casa e mancano sette minuti alla scadenza del parcheggio se vi è piaciuto il video e questo secondo episodio di giro con noi mettete un bel mi piace condividete iscrivetevi al canale e ci vediamo domani con un nuovissimo video dobbiamo arrivare a ancora 40 iscritti abbiamo capito ancora tutti i video ti dicono fa sto giro non lo cambiamo